Ciao a tutti, benvenuti alla Trottla Face Packing Pack. Questa sera ci sarà un make-up artist d'eccezione. Martina finalmente realizzerà la sua opera d'arte. Vai Martina! Il mio viso è tutto buono. Ecco se è la mia preferita. Grazie mille! Step number one, la base. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti